Ingredienti Dosi per 4 persone 350 grammi di fusilli 350 grammi di pomodori 60 grammi di cipolline fresche Una foglia di alloro Una scatola di salmone al naturale Un cucchiaio di vino bianco Sali Peppe e prezzemolo tritato Preparazione In un tegame con l'olio mettere le cipolle tagliate ad anelli sottili farle soffriggere Aggiungere il salmone dopo averlo scolato e fatelo insaporire con l'alloro Bagnate col vino e fate cuocere ad agio per 10 minuti Togliete la pelle e i semi dai pomodori Unite e mettete pepe e sale A fuoco vivo terminate la cottura ed unite il prezzemolo tritato Il piatto è pronto Buon appetito